Il comune di San Basile ha aderito al protocollo d'intesa della società che promuove la rivoluzione green attraverso il progetto di ecoeconomia Remunero. Il progetto dà la possibilità ai comuni di premiare i cittadini con la restituzione dell'intero importo versato per il tributo Tari. È un progetto che va a premiare coloro che hanno pagato la tassa sui rifiuti, che differenziano in modo corretto sui rifiuti e che quindi vedranno tramite una card ricaricabile che sarà fornita direttamente dalla società Remunero rivedere tutta la cifra che hanno pagato su questa carta. Questa carta poi potrà essere utilizzata all'interno della comunità nelle attività commerciali che hanno aderito e che si sono convenzionate con il comune. Quindi pagando la tassa sui rifiuti si avrà la stessa cifra da spendere qui nel comune. Le Remunero card dunque serviranno per realizzare economia circolare in questo particolare momento di pandemia, incendivando anche la raccolta dei rifiuti nel modo corretto e proviando coloro che lo meritano. Nei prossimi giorni il progetto prenderà piede, ci vorrà ancora qualche settimana per andare a regime perché la società che è partner in questo progetto ci fornirà anche nuovi cestelli e quindi prossimamente informeremo i cittadini anche in un'assemblea pubblica se sarà possibile con le norme Covid rispetto a tutti i dettagli di questa iniziativa.